Buongiorno a tutti, oggi è martedì 3 settembre 2024. Riscontrando notevoli e del tutto inaspettate difficoltà nel conseguire gli obiettivi preannunciati nella striscia di Gaza, l'Israeli Defense Force incrementa le operazioni militari in Cisgiordania e inscena una serie di provocazioni contro le varie compagini inquadrate in cosiddetto asse della resistenza. A partire dall'Iran, destinatario di una serie di operazioni particolarmente aggressive da parte dello Stato ebraico e oggetto di forti pressioni statunitensi affinché rinunci a qualsiasi forma di rappresaglia. Sino ad ora le autorità iraniane sono conformate alla dottrina della pazienza strategica, occupandosi simultaneamente di risaldare alleanze internazionali di un certo peso, come quelle con Russia e Cina, ma nuove iniziative offensive ed intensità crescente ad opera dell'asse israelo-statunitense potrebbero indurre l'Iran a compiere gli ultimi decisivi passi verso l'allestimento di un arsenale nucleare in grado di incrementare al massimo livello la propria capacità di deterrenza. Parliamo di queste eventualità assieme ad Antonello Sacchietti, che è un giornalista saggista specializzato in questioni iraniane e fondatore e gestore del blog di Roots l'Iran in italiano. E' autore di svariati volumi, tra cui la rana e la pioggia, l'Iran e le sfide del presente e del futuro, pubblicato da Infinito Edizioni nel 2016, l'Iran 1979, la rivoluzione, la Repubblica Islamica, la guerra con l'Iraq, pubblicato da Infinito Edizioni nel 2018. Grazie Antonello per la disponibilità. Grazie a te per l'invito. Beh Antonello, partirei proprio da una riflessione. Noi ricordiamo per esempio che la Corea del Nord aderiva al trattato di non proliferazione nucleare. Poi quando ha fiutato l'aria che tirava e essendosi vista collocata nel cosiddetto asse del male, di stati canaglia, si è ritirata e vedendo anche il destino in cui stava incorrendo l'Iraq di Saddam Hussein sulla base di accuse di aver allestito armi di distruzione di massa che poi non esistevano, si è ritirata dal trattato di non proliferazione e ha ripreso allo sviluppo della tecnologia atomica, affini militari e dei relativi vettori. L'Iran perché secondo te dovrebbe evitare di compiere lo stesso percorso della Corea del Nord? Diciamo che di base ci sarebbe, sul condizionale perché poi sappiamo che in politica come dice qualcuno in guerra come in amore tutto è concesso, però insomma ci sono anche dei paletti, ci sono delle regole soprattutto per alcuni paesi. Per l'Iran c'è quella che in gergo, non in gergo, è un termine diciamo religioso, si chiama fatto, c'è una proibizione, c'è un parere che diede a suo tempo Khomeini, che all'epoca era appunto guida dell'Iran, l'Ayatollah, quindi comunque era lui la massima autorità politica e religiosa dell'Iran e lui si espresse, la fatwa è in sostanza una risposta ufficiale che si dà a una domanda, su un consulto, per esempio una fatwa, passando completamente di argomento, famosa è quella con cui Khomeini rispose una volta a un fedele che chiedeva e che esprimeva la sua necessità, desiderio, volontà di cambiare sesso, lui dice io sono sempre stato un fedele musulmano, però sento di essere donna dentro, vivo questo, quindi vorrei rimanere musulmano e cambiare sesso e Khomeini disse sì, è giusto, se tu ti senti questo lo fai e da allora infatti in Iran le operazioni per il cambio di sesso non sono solo legali, sono anche addirittura, sono un versionale dallo Stato che paga una parte dell'intervento, copre l'assistenza psicologica etc., per fare un esempio di una ricaduta pratica, legale di un parere religioso. Allo stesso modo essendosi lui a suo tempo espresso contro l'uso dell'arma tomica, la costruzione di armi nucleari, batteriche, chimiche etc., l'Iran ha un obbligo, un obbligo formale a non produrre, a non impegnarsi in un'impresa di questo tipo. La fatua decade con la morte di chi l'ha emessa, però è vero che anche Khomeini dopo l'ha ribadita, quindi un concetto di non possibilità proprio di costruire armi di distruzione di massa. Sì, in pratica c'è questo vincolo e c'è anche una dichiarazione ufficiale, una posizione che da più di vent'anni l'Iran ha, che è quella di dichiarare che noi non abbiamo mai pensato di costruire il nucleare, il nucleare ci serve a fini civili, ci serve a fini medici, scientifici, non è nostra intenzione però costruire un'arma. Ora questo discorso va avanti dal 2002, perché è da quando con i Mogiaidin di fatto una formazione che era un tempo nelle liste delle formazioni terroristiche anche per l'Unione Europea e degli Stati Uniti, poi come si sa il nemico del mio nemico diventa mio amico, sono diventati addirittura dei paladini della libertà nel racconto di Taluni e sono stati sicuramente agiscono anche con l'aiuto, il finanziamento del Mossad. Quindi quando venne uscì, quando venne pubblicato un dossier sul nucleare iraniano, cominciò la dietriba sul nucleare iraniano che sappiamo dopo tanti sforzi e tanta fatica portò all'accordo del 2015. Poi sappiamo pure che tre anni dopo Trump decise di ritirarsi da quell'accordo unilateralmente, nonostante la IEA avesse certificato se non sbaglio 14 o 13 volte che l'Iran stava rispettando gli impegni che aveva assunto con quel trattato. Ma allora il ragionamento di Trump fu se con le sanzioni siamo arrivati a costringerli a fare questo accordo, se ne mettiamo di più forti, di più estese, di più grandi, magari facciamo cadere direttamente la Repubblica Islamica, ci togliamo il pensiero, ci togliamo questo peso e abbiamo fatto strike insomma in sostanza, noi ci siamo tolti di mezzo anche l'unico di quei paesi, l'unico che veramente è uno Stato degno di questo nome che può darci anche del filo da torcere e ostacolare i nostri progetti, i nostri interessi in Medio Oriente. Senonché non è andata così, nel senso che l'Iran non è crollato, l'Iran ha saputo anche reinventarsi, anche rimodulare una propria economia e la considerazione politica che ha da fare è che sulla base di quella decisione di Trump e a cascata la reintroduzione di altre sanzioni, a un certo punto l'Iran è uscito da quello, come ti ricordavi giustamente tu, della cosiddetta pazienza strategica, la sta tenendo ancora, però diciamo allora era proprio una posizione netta ufficiale e ha detto adesso basta, ricominciamo ad arricchire l'uranio. Quindi l'effetto paradossale qual è stato? Che oggi tecnicamente l'Iran è più vicino alla bomba, c'è la possibilità di costruire una bomba, molto più di quanto non lo sia stato in passato, molto più di quanto non lo fosse prima del 2015. Allora il punto è, si arriva poi a una situazione veramente, sai i film western, si dice lo stallo alla messicana, quando io punto l'arma contro di te, tu lo punti di me, un altro contro un altro, però nessuno può sparare, perché il primo che spara di fatto siamo tutti morti. Qui siamo proprio a uno stallo alla persiana, nel senso che Trump ha usato quella massima pressione e adesso però di fatto da parte americana non ci si può più inventare nulla come sanzioni, perché hanno sanzionato tutto quello che è sanzionabile, sono arrivati a fare delle sanzioni anche ridicole, cioè quando metto nella lista dei personaggi che sono degli a Yatollah, ultra novantenni, ma che senso ha tutto questo, sanzionare personaggi di questo tipo? Una volta Gianna T, tra l'altro ha veramente 100 anni se non sbaglio, che era nel consiglio dell'assemblea degli esperti, rispose, faceva battuta, che peccato che mi hanno sanzionato, non posso più andare in America a fare shopping per Natale, cioè alla fine ti fai prendere pure in giro. Dall'altra parte però è chiaro che si arriva a un confine in cui non puoi più fingere o blefare e quindi al di là di tutte queste schermaglie il passaggio successivo per tutti è un confronto diretto. Ora, questa è la mia, se vogliamo, provocazione ma forse è una semplice considerazione guardando agli esempi di altri paesi. Tu citai la Corea del Nord, in senso negativo ma più vicino, ne potremmo citare la Libia, quando Gheddafi a un certo punto rinunciò al progetto nucleare, diciamo convinto della buona volontà dell'Occidente, diciamo in questo l'Italia ha qualche responsabilità anche grossa per quel paese e per quel destino, perché quello che poi è successo dopo, interruppe, sospese quel programma e sappiamo come andare a finire. C'è un altro esempio ancora più vicino all'Iran, c'è di un paese confinante, il Pakistan e il Pakistan ha un'arma nucleare che oramai ce l'ha da tanto tempo, ce l'ha da quando l'India si dotò di un'arma nucleare nel 1974 e allora Butto che era il Presidente disse noi se l'India ha la bomba noi mangeremo foglie e erba finché non ce l'avremo pure noi, c'è una questione di deterrenza, non possiamo permetterci di non avercela. Di fatto ce l'hanno tutte e due, nessuno l'ha mai usata e anche il livello di scontro tradizionale, potremmo dire convenzionale tra i due paesi si è molto ridotto anche in virtù di questa deterrenza. Ora l'Iran potrebbe arrivare, Tomi Chiedi potrebbe arrivare a costruire una bomba e a dichiararlo ufficialmente, uscire dal trattato di non proliferazione? Teoricamente tutto è possibile, nel senso che ovviamente si dovrebbe fare un passo anche molto forzato, perché appunto ci sarebbe questa una questione anche di carattere ideologico, morale se vogliamo, però forse nemmeno conviene fare un passaggio così ufficiale. Forse il far intendere di essere a un passo dall'averla o comunque di fatto averla in pratica, di essere in grado di dotarsi in tempi molto veloci eventualmente di un'arma nucleare, probabilmente sarebbe sufficiente anche questo. Se questo poi possa in qualche modo fungere da deterrente nei confronti di Israele, perché proviamoci chiaramente lì la questione tra Iran e Israele che rispetto a India e Pakistan hanno di differenza al fatto che non confinano direttamente, non sono stati confinanti. Eppure l'attenzione, la pressione che è stato messo sulla questione nucleare negli ultimi 20 anni, soprattutto da Israele, dalla lobby anche filo israeliana statunitense, ma da tutta l'opinione pubblica occidentale. Noi per anni abbiamo parlato di una bomba atomica che non c'è. Ci sono libri scritti 20 anni fa che parlano della bomba degli Ayatollah, c'è una bomba che però di fatto non c'è. O questo è un paese veramente molto arretrato che in 20-25 anni dal che stava arricchendo l'uranio non è arrivato mai ad avercelo, oppure forse la storia non è proprio come ce l'hanno provato a raccontare fino adesso. E chiudo poi, è abbastanza curioso questo, che un paese che non ha aderito al trattato di non proliferazione nucleare, parlo di Israele, che ha, si sostiene, si sospetta 300 testate nucleari, ma non le ha mai dichiarate, ma ogni tanto qualche ministro si lascia sfuggire a Gaza, dovremmo usare il nucleare e farla finita o dovremmo usarlo contro l'Iran e chiuderla lì si senta minacciato da uno che la bomba non ce l'ha o non ce l'ha ancora e soprattutto che faccia la morale a uno che la bomba non ce l'ha. Questa è la spiegazione e il fatto che poi si risponda sì, ma perché quello è un paese democratico Israele e invece l'Iran non lo è, rientra nella narrazione che oramai conosciamo bene e che mi pare sia stata applicata benissimo anche nel caso di Gaza e del Libano e di tutti gli altri scenari in cui Israele si trova a confrontarsi. Poi è interessante vedere che il programma nucleare iraniano risale prima della rivoluzione islamica e quindi andava bene lì che l'Iran si ponesse nelle condizioni eventualmente di raggiungere il nucleare a fine militare, perché sappiamo che non esiste un netto confine tra il nucleare a fine civile e il nucleare a militare insomma. Certo, certo, certo. Ma sai lì la cosa bella di ritrovare poi certe immagini, di vedere ormai internet in questo fornisce anche un archivio digitale poi accessibile a tutti, perché fa una ricerca, si trova una pagina che la lobby filonucleare americana acquistò sui principali quotidiani statunitensi a metà anni 70 per rilanciare il nucleare negli stati uniti, che era un momento in cui c'erano molti dubbi, il nucleare ad uso civile intendo, la bomba ce l'avevano dal 45, ma rilanciavano il nucleare con una foto dello Shah dicendo guardate chi si sta impegnando per un programma nucleare, il re e l'imperatore di un paese che galleggia sul petrolio. Quindi se lo fa lui è evidente che è una cosa giusta, che è sì da una parte perché voleva destinare il nucleare a uso interno, il petrolio all'esportazione, ma lo faceva anche in una questione geopolitica, perché arrivare ad avere una possibilità di un nucleare lo metteva sulla stessa condizione di India e di lì Pakistan, di lì è poco e in questo magari gli Stati Uniti non erano proprio contentissimi, perché finché 6 lui era la pedina di Washington andava bene. Quando lo Shah alzava un po' la testa e cominciava a ragionare da potenza medio-grande regionale, già la Casa Bianca storceva il naso, però è vero che quel programma fu avviato, si cominciò a lavorarci negli anni 70, poi venne interrotto con la rivoluzione del 79 e in modo poi ufficiale venne bloccato, proprio per la questione che dicevo prima. È interessante notare come poi le strane, l'eterogenesi dei fini. Se c'era un paese che avrebbe potuto minacciare l'Iran in quegli anni con il nucleare era l'Iraq, la famosa centrale di Osirak dell'81 e che alla fine Saddam stava realizzando con la collaborazione dei francesi. La Francia si era impegnata, aveva siglato un accordo molto oneroso per l'Iraq, per costruire una centrale nucleare e a un certo punto Israele bombarda quella centrale, Osirak che tra l'altro i francesi chiamavano Osirak perché era costruita in sinergia con la Francia e quel bombardamento Israele lo fa con una collaborazione segreta con l'Iran, in quel momento era una minaccia per entrambi, quindi nella prima fase della guerra fare fuori la centrale nucleare, fare in modo che Saddam non arrivasse al nucleare era interesse di entrambi. Paradossalmente poi da quel momento in poi il fatto che Saddam non potesse fare più paura fece sì che invece l'Iran diventò poi la minaccia numero uno per l'Occidente e quindi la guerra come sappiamo durò ancora molto tempo. Tra l'altro questo fatto del nucleare iracheno ufficialmente forse non lo sapremo mai, ma chissà che magari dietro gustica non ci sia questa storia, non gli scenari di guerra prospettati per 40 anni, esercitazioni, il volo di Gheddafi, l'ultima teoria che è uscita, l'ultima inchiesta che c'è stata da parte di Report e c'è anche un libro che è uscito da poco dedicato a questo tema, ipotizza che in realtà quella notte l'obiettivo non fosse l'Italia, il 19 dell'Italia con le povere persone che erano a bordo ma fosse un aereo francese che doveva trasportare l'uranio in Iraq. Se mettiamo insieme i pezzi tutto questo ha un suo fondamento. Sì sì certo, la collaborazione, questa convergenza di intenti tra Israele e l'Iran c'è stata anche rispetto all'assassinio di Gerald Bull, che era un ingegnere canadese, autore di teorie molto avanzate in materia di missilistica, che stava mettendo a disposizione di Saddam Hussein il cosiddetto super cannone, viene assassinato dal Mossad in Belgio. Quindi quando c'era il nemico comune una via di collaborazione c'era fondamentalmente. Il punto secondo me è che abbiamo visto anche l'atteggiamento, come tu giustamente sottolineavi prima, degli Stati Uniti, che nel 2015 si raggiunge questo accordo sul nucleare iraniano che poi non diventa un trattato perché sottoporlo all'approvazione del Congresso, il Congresso non avrebbe mai ratificato quell'accordo perché sappiamo che i repubblicani sono, non so se dire che il Likud è un'affiliazione del partito repubblicano statunitense o viceversa, perché non è ben chiaro chi sia manipolato da chi, negli ultimi anni è molto chiaro, all'epoca lo era forse un po' meno. Quindi Trump si ritira, ma prima di ritirarsi hanno cercato di metterci dentro questo accordo, anche una serie di questioni, per esempio lo sviluppo del programma missilistico iraniano. L'Iran non doveva nemmeno sviluppare vettori in grado che eventualmente di trasportare, sono arrivati a questo. Sì, sì, ma questo era uno dei punti su cui allora tanti insistevano, sostenendo che quello non fosse un buon accordo ed era uno dei primissimi punti che Trump metteva per un nuovo accordo, che di fatto era una sorta di capitolazione totale della Repubblica Islamica messa nero su bianco, perché quando Mike Pompeo presentò questa proposta ovviamente l'Iran la rinviò al mittente perché era veramente inaccettabile. Questi sono i punti poi, per questo poi che va conosciuto dalla storia, perché l'Iran quando viene aggredito da Saddam Hussein nel 1980 non ha a un certo punto proprio i mezzi per difendersi, perché nessuno vende la missilistica all'Iran e uno dei pochi paesi sarà la Corea del Nord, ma questo lo ricordava l'allora ministro degli esseri Zarif, ministro degli esseri dell'accordo del 2015, c'è un video che si può trovare facilmente in cui lui spiega perché l'Iran non può accettare un vincolo, una proibizione sui missili balistici, noi all'epoca pregavamo, lui diceva proprio sul termine begging, le mosinavamo, chiedevamo delle mosi per avere dei missili per difenderci e nessuno ce li voleva vendere, oggi che noi li abbiamo sviluppati non ci potete impedire di difenderci, questa è la logica dell'Iran ed è una logica assolutamente plausibile, normale, nessun paese può accettare che gli si dica rinuncia a qualsiasi forma di difesa, così domani ti tiriamo giù, domani sarà invaso, mi sembra evidente che sia un procedimento molto netto, ma anche detto, questo per una questione anche di onestà intellettuale, che quell'accordo, che pure sicuramente era stato un passaggio positivo, era molto lontano dall'essere effettivamente pienamente funzionante e questo per responsabilità anche diretta dell'amministrazione Obama, della stessa amministrazione che aveva avuto quell'accordo, perché poi nella pratica il fatto che le banche americane comunque facessero pressione su tutti gli altri soggetti, uno dei veri passaggi duri, Trump metterà poi la massima pressione, ma la svolta negativa per l'Iran storica, la introduce Obama quando mette le sanzioni secondarie, Obama è il primo che mette le sanzioni, in cui non sanziono direttamente tu impresa americana che vuoi fare affari con l'Iran o tu impresa iraniana che vuoi venire qua, no no, io sanziono tutti quelli che fanno affari con l'Iran, quindi anche tu banca italiana che vuoi dare, concedere un prestito per un'impresa che deve aprire un'agenzia, una sede a Teheran o fare affari in Iran, con me è chiuso, se tu lo fai con l'Iran non lo fai con me, la stessa questione del famoso Muslim ban con varie declinazioni fatte da Trump, però è anche vero che già da prima, già con Obama, c'è ancora una legge che per esempio a me, che ho tanti timbri sul passaporto di ingresso in Iran, ma a parte i timbri comunque risulta che sono stato in Iran tante volte, non posso ottenere il visto online per andare in America, se volessi spesso accade che chi ha appunto questa entrata in Iran si veda poi rifiutare l'ingresso, il visto di ingresso in America. Ora, se riguarda il turista, vabbè, come dire, ha un certo peso, se è una multinazionale, se è un tipo di viaggio d'affari, è chiaro che lì mi ricordo quando una volta mi chiamarono, non ricordo quale fosse, quale multinazionale, volevano avere questa cosa, un amico che lavora, ma è possibile che è così? Sì, è così, e quindi un loro manager non è potuto andare negli Stati Uniti, qualche settimana fa se non sbaglio un atleta italiano, un tennista non ha potuto partecipare a un torneo, forse la US Open addirittura, non mi ricordo il nome però, perché una decina di anni fa aveva partecipato a un torneo di Iran. Allora, sono tanti ostacoli, tante trappole che alla fine fanno male, nel senso che alla fine ti impediscono di… o come per esempio le sanzioni, non ci sono sanzioni sui beni umanitari, sì, però i beni medici, farmaci, strumenti, apparecchi medici, sì, ma se tu mi blocchi mi impedisci poi di poterli pagare questi acquisti, non li comprerò mai perché nessuno mi li regala, l'Iran quando è scoppiata la pandemia dice no, ma non è vero che c'erano sanzioni su quello, sì, ma non potevano comunque acquistare mascherine, tamponi, i primi kit, i primi stock di vaccini in seguito dall'Occidente perché c'era questo tipo di impedimento. Sì, poi l'eterogenesi dei fini arriva a ogni livello, perché a furia di sanzionare, vediamo che l'Iran per esempio mette a punto, intanto è riuscito a sviluppare tecnologie missilistiche di tutto rispetto, sembra che l'Iran abbia l'ipersonico, i missili personici, assieme a Russia e Cina, gli Stati Uniti e Israele, no, e questo non è uno schiaffo di primissimo ordine. Poi l'Iran si entra a far parte dei BRICS, della Shanghai Cooperation Organization, vediamo, e soprattutto è sul punto, sembrerebbe quasi, qualcuno dice il mese prossimo, di raggiungere un'intesa, una partnership strategica con la Russia, e questo ha un'importanza cruciale perché la Russia ha fatto la stessa cosa con la Corea del Nord. E cosa ha detto Putin? Dal momento che l'Occidente ama così tanto servirsi dell'Ucraina per combattere la Russia, la Russia a sua volta fornirà proprie tecnologie, propri sistemi d'arma ai propri alleati, mettendoli così nelle condizioni di colpire interessi occidentali. Questo è un passaggio notevole e le voci, le indiscrezioni che ovviamente vengono fatte filtrare apposta nelle scorse settimane di movimenti, di contatti tra Mosca e Teheran vanno in questo senso, come pure la telefonata, il contatto che c'è stato tra Cina e Teheran in cui in sostanza dopo l'assassinio di Anie, il leader politico di Hamas a Teheran il 31 luglio, la Cina in sostanza ha detto a Teheran, voi fate quello che ritenete giusto fare, a noi va bene, non vi preoccupate, per noi non è un problema, nel senso che continuiamo comunque ad avere le relazioni di prima, innanzitutto legate all'exporto del petrolio iraniano in Cina, come dire, non vi preoccupate per quello, è il semaforo verde non da poco, in questa situazione se c'è qualcuno che oramai è condannato a essere rilevante, perché poi in politica per certi versi è molto meglio essere temuto che non contare nulla, un po' degli esseri iraniano, quando gli hanno l'intervista ha detto noi abbiamo la priorità di mantenere buoni rapporti con i nostri vicini innanzitutto, con i paesi che ci sono stati vicini nel momento della crisi, quindi Russia e Cina, non escludiamo a priori di mantenere un contatto con gli Stati Uniti, di metterci d'accordo in qualche modo non si sa bene, quando alla domanda sull'Europa lui ha risposto che l'Europa non è una priorità per noi, che comunque è un bel risultato per l'Europa, pensare che una volta l'Europa era importante per l'Iran e viceversa e noi l'Italia all'interno dell'Unione Europea eravamo in alcuni momenti primi, in alcuni casi secondi della Germania come partner commerciali dell'Iran, arrivare a un punto in cui il Ministro degli Esteri iraniano dice, sentite, sì ci stavate tanto simpatici, ma per come le cose stanno andando negli ultimi anni non siete il nostro primo pensiero, in un contesto in cui hai messo le sanzioni alla Russia, poi però la von der Leyen ha veramente la faccia tosta di dire da quando la Russia ci ha tagliato le forniture di gas, l'altro giorno ha detto questo, ha usato il termine, è la Russia che ha tagliato le forniture di gas, non noi che non lo compriamo più e lo compriamo nel nostro caso al doppio del prezzo di prima dagli Stati Uniti, con tutta la procedura che sappiamo e tu ti permetti pure di troncare, di non riallacciare i rapporti con l'Irano, almeno ufficialmente, però poi lo fai magari con Algeria, con Mozambico, anche questi non è che siano paesi poi, come dire, se proprio noi dovessimo analizzare da un punto di vista politico che siamo proprio alleati, qui è solo una copertura, salvare un po' la faccia e però non smettere l'aspetto, il piglio di quelli buoni, di quelli che però non trattano col nemico, è una logica che mi sembra che oltre che ipocrita, mi sembra che si sia rivelando assolutamente perdente. Sì, peraltro l'Iran ha superato una serie di prove del fuoco impressionanti, perché sottoposto a sanzioni per 50 anni quasi, 40 e passi anni. Sì, da subito in pratica. Appena c'è la rivoluzione islamica l'Iraq attacca l'Iran, una guerra terribile, un milione di morti e passa. Armi chimiche da parte dell'Iraq, insomma, un scenario da incubo. Viene messo sotto pressione istantaneamente, con minacce di attacco, ricordiamo sotto l'amministrazione Bushi, ricordiamo anche quel discorso di Wesley Clark, disse che una sua fonte all'interno del Pentagono gli aveva detto che c'era stato elaborato un piano che prevede di far fuori sette paesi in cinque anni e l'Iran era la ciliegina sulla torta, però ha superato tutte queste prove una dietro l'altra. Adesso il sistema di potere in Iran ha retto. Quindi, al di là delle fratture interne al paese che ci sono, come in ogni paese, questa classe dirigente, con ogni probabilità, ha una sua legittimazione anche interna. Tu cosa ne pensi? Sai, questo fa male quando qualcuno lo ascolta, qualcuno, però è così. Questo sai, io lo penso e, anzi, ti dico di più, uno dei motivi che ormai quasi vent'anni fa mi portò a fare il mio primo viaggio in Iran, a cominciare ad interessarmi di questo paese, era esattamente questo. Perché guardando la cartina del Medio Oriente, tu, il Medio Oriente diciamo allargato, diciamo Asia Centrale Occidentale, chiamiamola così. Tu vedrai che l'Afghanistan aveva vissuto tutto quello che aveva vissuto e aveva avuto dei passaggi epocali, tra invasione sovietica, talebani, post talebani, ritorno dei talebani. Il Pakistan comunque era passato attraverso momenti ampi di crisi, ma comunque con un assetto diverso. A nord l'Unione Sovietica era, erano diventati per l'Iran altri 3-4 paesi con cui confinare, pensate soltanto che una volta tra Armenia, Azerbaijan, Turkmenistan erano soltanto un confine, dopo diventeranno tutti questi. L'Iraq non ne parliamo, perché aveva avuto due guerre di invasione di attacco alla parte americana nel 2003 e cade. L'unico che rimane lì in mezzo, che sembra non si sa bene come, era proprio l'Iran. Allora, a meno che uno non voglia pensare che ci sia una formula magica che permette alla Repubblica Islamica di rimanere in piedi, probabilmente nessuno si è mai soffermato a ragionare e ad analizzare perché quel sistema invece non si è imploso, perché non si è crollato, non ci sia stata un'altra rivoluzione, non ci siano stati dei meccanismi che abbiano portato a trasformarsi nel corso del tempo. è evidentemente perché è un po' diverso, non solo da come è stato raccontato, ma forse anche da come è nato. D'altra parte 45 anni, sono un tempo lungo. Io dico sempre questo, ma se noi dovessimo ragionare sull'Italia, come ragioniamo quando parliamo di Iran? Perché oggi quando parliamo di Iran è come se la rivoluzione ci fosse stata l'altro ieri, come se ci fosse ancora Khomeini, come se lo Shah fosse scappato un mesetto fa. è come se noi parlassimo dell'Italia ragionando con la prima repubblica, i partiti, la democrazia cristiana, il partito comunista, il partito socialista, in Italia con le Brigate Rosse, con tutti dei movimenti anche sociali, culturali, alcuni di questi anche decisamente positivi comunque che facevano parte allora dello scenario del nostro paese. Sì, ma parliamo di storia, non parliamo più di attualità. Invece noi quando parliamo di Iran ci fermiamo a un'immagine cristallizzata, per cui ci blocchiamo come se non ci fosse stato nel mezzo non solo gli anni che passano, quindi anche le persone che si alternano, l'economia che cambia, il mondo intorno che cambia, perché poi insomma non è che uno è un paese impermeabile, ma ci sono stati anche dei cambiamenti, c'è stato anche un cambio costituzionale nell'89 che ha cambiato delle cose, che non è vero che non ha cambiato nulla, cioè che ci sono delle figure che hanno avuto un potere accresciuto, altre potere diminuito, si è ridisegnata anche la mappa del potere. Ora questo non è che vuol dire che per forza questo sistema durerà per sempre o che siano infallibili, tutt'altro, perché insomma voglio dire i problemi in Iran ce ne sono e come, il malcontento ce n'è e come, c'è disagio, c'è disaffezione, tutto quello che vogliamo. Però trovatevi un paese nel mondo oggi in cui la politica non sia in crisi. Quando parliamo di politica, di rappresentanza, di democrazia, di elezioni, ma se guardiamo le elezioni americane in cui si riconfrontano uno che è stato presidente, è stato eletto presidente otto anni fa, che era Trump, Kamala Harris che di fatto subentra in extremis a un presidente in carica che di fatto non era più in condizioni di concorrere, ma la scelta, quanti sono gli americani? 300 milioni di americani, una popolazione così grande, ovviamente l'elettorato è meno di 300 milioni, ma insomma questa è la vera alternanza. In Francia si è votato a giugno e ancora, o a luglio adesso non mi ricordo quando, comunque sono passati due mesi, ancora non c'è un nuovo premier incaricato, perché Macron non vuole nominarlo, salutato come il grande coraggioso capo di Stato che però scioglie il Parlamento per confrontarsi con la volontà degli elettori, sì, però la volontà degli elettori finché dicono quello che si accomoda a te. Prima c'è la pausa olimpica, poi c'è i mercati stabili, poi non so cos'altro ci sarà, ma di fatto la Francia ha il sistema bloccato in questo momento. Noi, mi taccio sull'Italia per pietà e per pudore, insomma abbiamo tutti una crisi di rappresentatività, di democrazia, di politica, anche l'Iran ovviamente, anche l'Iran, però non è che ogni volta possiamo dire sì, ma il nostro è un sistema superiore, quindi qualsiasi cosa facciano loro è comunque sbagliato rispetto a quello che diciamo noi, perché questo è semplicemente colonialismo, è una forma di colonialismo culturale, oltretutto anche inutile perché non ti porta da nessuna parte, significa anche non capire mai le dinamiche. In Iran si è votato, nessuno avrebbe mai scommesso che avrebbe vinto Pesekian, che avrebbe vinto un riformista, ha vinto, poi si è detto che ha vinto ma tanto non conta nulla, si diceva tanto non conta nulla perché c'era tutto il Parlamento contrario, va in Parlamento e ottiene subito il sì a tutti i ministri, e allora dicono sì, è però perché lui si è appoggiato sulla guida, però allora mettiamoci d'accordo perché delle due l'una o non conta niente, o non contano prima nemmeno gli altri presidenti, o decide tutta la guida, allora forse la guida potrebbe anche non farne a meno di queste elezioni. Cioè voglio dire, piegare la realtà ai propri teoremi non paga mai perché alla fine ti ritrovi veramente con il cerino in mano, adesso come lo spiego? Se tu mi chiedi, ma fra un mese, fra due mesi l'Iran avranno fatto un accordo, avranno attaccato Israele, io gli rispondo sicuramente non lo so, perché non lo so, perché non riesco in questo momento a dare una risposta. Ci sono tante questioni da considerare, però veramente è tutto, se andiamo a rivedere il film di questi ultimi sei mesi, non ci avrei scommesso un euro se qualcuno mai si è detto, guarda che nel giro di tre settimane Israele attaccherà il consolato iraniano a Damasco, l'Iran risponde con un attacco contro Israele, poi morirà il presidente e il ministro degli esseri, poi verrà eletto un presidente riformista a ballottaggio e poi dopo Israele ucciderà il capo di Hamas a Teheran. Questo sembrava quasi, se fosse stato la trama di un romanzo di fantapolica, però era un po' inesagerato, ci avrebbe messo un po' troppa roba nel giro di poco tempo, e invece è quello che è accaduto. Esatto, esatto. Perfetto, siamo in chiusura, io vi ricordo come sempre che questo canale è demonetizzato, si regge unicamente sulle mie forze, vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo, quello che riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate in descrizione e in coda al filmato tutte le informazioni necessarie per procedere in tal senso, ma se i miei riferimenti per iscrivervi ai miei canali Telegram, Rumble e Odissee. Antonio, io ti ringrazio molto per le tue riflessioni, molto equilibrate, molto gradite, e auguro buona serata a tutti. Buona serata. Grazie. 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 Grazie.